Questo è un messaggio che voglio dare a tutti i ragazzi che mi contattano perché vogliono investire il loro soldo, quelli dei loro genitori, nel fare questo percorso, questo percorso di transizione da junior a pro. Allora, quello che voglio che capiate ragazzi è, come ho spiegato più volte, che non è che io sono uno con cui dovete parlare soltanto. Io, in quel senso, posso darvi una certa consapevolezza su alcune dinamiche che sicuramente vi aiuteranno a diventare consapevoli, dunque a trovare delle soluzioni ai problemi. Però dovete capire che l'ottica da abbracciare, quando si parla di addestramento alla competizione, è che c'è da fare uno sforzo, c'è da dare piena disponibilità, c'è da mangiarsi bocconi amari, c'è da sopportare, c'è da gettare il cuore oltre la rete. È questo quello che venite a fare qui. Non venite qui solo a capire la figata degli strumenti di mental tennis che applicati sicuramente rendono un tennis più efficace e quindi aumentano le performance. Ma non è questo che venite a fare qui. Qui imparate a non mollare quando tutto va storto, a trovare delle soluzioni quando non siete in giornata, quando aprite il frigo e posti di trovare il solito champagne e caviale, trovate sedano, carote e cipolla e dovete provare a vincere la partita con quello che avete. Questo voglio dire che tante volte le persone, questi ragazzi, vengono, non trovano le condizioni perfette oppure il dritto e rovescio non gli cammina come vorrebbero e si scoraggiano e mollano, escono dalla partita. Quando invece quello che insegno io nell'umiltà è proprio quello di provare a portare a casa la partita con quello che si ha in quel momento. Se proprio non ci si riesce, almeno prova a far giocare amare l'avversario. Dunque, continuo a spiegare questa cosa perché è difficile farlo capire, è che quando la gente sente mental subito va al mental coach. Non sono un mental coach, sono un allenatore di persone e di tennis nello specifico. Il mio ruolo è trasformarti da bambino viziato in uomo e non sei viziato perché lo hai deciso tu, è perché la società, l'epoca, l'era in cui sei venuto al mondo ti ha fatto avere tutto e subito. Ma ricordati che è dalle privazioni che ti si svilupperà la fame e la voglia di vincere, non quando hai tutto subito e facile. Dunque, se proprio devi capire cosa c'è da fare qua, ricordati che qua andiamo a lavorare sulle virtù. La pazienza, la resilienza, l'uscire dalle tue zone di comfort come la proattività al posto di giocare in campo sempre remissivo-passivo per paura di perdere o di fare errori. Io ti insegnerò ad allenare l'intenzione, no? Insomma, questo è molto importante che lo capiate perché sempre più ragazzi vogliono fare il percorso di transizione junior pro, ma solo pochi poi ci riescono perché Filippo è molto simpatico, fa ridere, è un ragazzo che gli piace stare in compagnia ma purtroppo in campo per il vostro bene Filippo deve essere anche un allenatore e non può scendere a patti con quelle che sono le vostre scuse, il vostro modo di interpretare o vedere il mondo. Dovete fare quello che vi dico e zitti e pedalare e devo dire che pochi ragazzi ci sono riusciti perché poi quando il gioco si fa duro è lì che si vede chi veramente sa giocare e molti perdono quella simpatia e quell'entusiasmo iniziale evidentemente perché non sono stati abituati nella vita a lottare, a essere pazienti, resilienti verso le situazioni difficili e verso chi in quel momento deve usare più il bastone che la carota proprio per tirare fuori il meglio dal loro potenziale. Chi usa solo la carota ragazzi miei è soltanto un leccaculo che vuole i soldi dei vostri genitori. Io devo saper misurare le due cose perché non si può usare soltanto il bastone, bisogna anche saper premiare tant'è vero che io sono un autentico dispensatore di complimenti quando le cose vanno bene ma sono anche una persona che non scende a compromessi quando vede determinate cose e voi mi volete rigirare la frittata come si dice in Spagna, no. Quindi mi raccomando il percorso junior da junior a pro vi prepara mentalmente, tennisticamente, atleticamente per affrontare prima quello che potrete poi trovarvi un giorno quando comincerete a fare la gavetta che condurrà eventualmente a diventare professionisti ma vi fa crescere dove? Non solo qui ma nello spirito, interiormente perché vi fortificherà nello spirito. Io ho di fianco a me la scuola russa e per me quelli sono esempi estremi ma è quello che poi quando vanno in campo questi qui ti sbranano ed è da lì che io prendo anche spunti per inserirli in mental tennis. Ho la scuola spagnola, la solidità di gioco, mai fare errori, tirare sempre la palla di là una volta in più del tuo avversario. Ho la scuola americana, il servizio è la prima cosa e adesso anche la risposta al servizio come ancora più importante del servizio stesso. Sono tante cose che faremo qua ma non si può venire una settimana pensando di fare la gita in un posto fantastico. Sicuramente la figata di questo posto perché sta diventando la Miami Europea è questo ma dovete anche capire che dovrete venire qua spesso per poter mettere in pratica tutte queste cose. Il tennis è un percorso di lungo periodo dove ci vuole un sacco di allenamento per poter migliorare le cose. Dunque io vi posso aiutare a cambiare mentalità, a aumentare la vostra autostima e la fiducia nei vostri mezzi, l'atteggiamento nei confronti della partita e verso voi stessi ma poi dovete dare continuità al progetto perché se venite una volta e poi non venite più non riesco a fare granché, c'è bisogno di continuità. D'altro canto invece quelli che sono seri vengono anche 4-5 volte durante l'anno, vengono, si preparano e poi vanno a fare i tornei e lì si vede proprio la differenza. Perché? Perché lavorando qui e lavorando proprio nello spirito guerriero del tennista i risultati poi si vedono a livelli clamorosi. Ok? Va bene, spero che tu abbia capito la differenza del mio lavoro con quello di uno psicologo o di un mental coach fit e ti aspetto sul mio sito www.mental-tennis.net e per i tennis cup ti aspetto proprio qui a Marbella in Spagna. Va bene? Un saluto a tutti. Ciao ciao!